Cosa succede? Guarda lì, guardala, che male tu canti. Buonasera e benvenuti a Cosa succede in città. Quest'oggi ci occupiamo della città di Teramo e lo facciamo con la persona che sicuramente meglio conosce questa realtà e la conosce in maniera quotidiana. Ci riferiamo al sindaco, al primo cittadino di Teramo, ovvero Maurizio Brucchi. Buonasera. Buonasera. Allora, chiaramente i teramani lo conoscono molto bene, qualche dato su di lui per coloro che non sono di Teramo e non lo conoscono così approfonditamente. Allora, Maurizio Brucchi, nato a Teramo, il 21 settembre del 1961, una classe di ferro, glielo dico io, visto che anch'io sono del 61, ha 48 anni, è laureato in medicina. E' stato eletto l'anno scorso, nel giugno dello scorso anno e ha iniziato a fare politica nel 1999, di fatto quando si è candidato per la prima volta al Consiglio Comunale, una prima esperienza di opposizione. Poi con Gianni Chiodi, sindaco, è stato assessore, un assessore come suol dire di quelli pesanti ai lavori pubblici e appunto poi c'è stata questa elezione a primo cittadino. E' stato anche tenente medico, se non ricordo male, e ha avuto anche sotto il profilo professionale una gran bella esperienza con il professor Veronesi, che certo non è l'ultimo arrivato e lei so che ne parla sempre con fierezza di questo fatto di aver collaborato proprio nello staff del professor Veronesi. Per quanto riguarda lo sport, è un amante dello sport in modo particolare del tennis, è stato, lo è ancora presidente del circolo? No, non lo sono, più da qualche mese. Ecco, ma lo è stato per una dozzina di anni, se non vado errato. Sì, 12 anni. Questo per dire che mi sono informato. Allora, innanzitutto, oramai sono passati, diciamo, 8-9 mesi dal momento in cui è stato eletto. C'è stato qualche momento in cui ha detto, ma chi me l'ha fatto fare? Devo dire di no, devo dire di no perché in questi mesi ho potuto constatare di persona il peso, l'importanza di essere sindaco della città, della tua città. E questa sensazione ti viene dai cittadini che ti fermano quotidianamente, soprattutto in una realtà come Teramo, che non è una grandissima città, è una città con 56 mila abitanti dove ci si conosce più o meno tutti e la gente ti ferma e ti riconosce questo ruolo in qualche modo. E questo gli dà proprio, come dire, il senso e l'importanza di essere sindaco. Quindi devo dire che non mi è mai passato per la mente chi mi sono mai posto questo problema. Mi piace molto fare il sindaco, lo faccio con molta passione, così come faccio un po' tutte le cose, sono abituato a fare. Mi ci dedico veramente, dedico tutto il mio tempo, fatto salvo la situazione che io non ho lasciato la professione medica, perché continuo a fare senologia, come lei appunto prima accennava, anche per il fatto che devo dire ho investito molto. Al Mazzini di Teramo. Sì, al Mazzini di Teramo ho investito molto in questo settore, con questa esperienza di due anni all'Istituto Oncologico Europeo, il professor Umberto Veronesi, con Paolo Veronesi. Abbiamo messo in piedi a Teramo un percorso senologico che è veramente un fiore all'occhiello per la nostra ASL, dove al centro c'è la donna con le sue problematiche relativamente al seno e un'equip di medici ruotano intorno alla donna. Quindi la centralità del malato è con questi medici che in un lavoro di equipe trasversale ruotano intorno alla paziente. Quindi ho deciso, ma è una scelta che avevo fatto anche prima di candidarmi, è una scelta che avevo comunicato anche ai partiti, dicendo che non avrei lasciato la professione medica, anche perché la legge lo permette. Però voglio dire, ho lasciato il circolo tennis perché non era possibile, ma non era nemmeno giusto che continuassi a fare il presidente, anche perché ci sarebbe stato anche volendo un discorso di incompatibilità, seppure non, perché non si può essere controllore e controllato. Io, ma era anche giusto di passare il testimone, anche se con molto rammarico, perché devo dire che io il circolo tennis l'ho vissuto da quando ero piccolo, da quando avevo 8 anni, quindi per me è una parte importante della mia vita. Certo, i tempi, la giornata è di 24 ore. Ecco, io volevo chiederle proprio questo, cioè nel senso che lei già fa il sindaco e quindi già è un bel compito da portare avanti. La professione che ha detto, appunto, poc'anzi di non aver abbandonato, è la famiglia? La famiglia un po' ne soffre, insomma, però io cerco di essere presente, per esempio, limito molto le mie, insomma, i politici fanno spesso a cena, insomma, cerco di limitare le cene a quelle prettamente di lavoro per essere presente in famiglia. Devo dire che, insomma, mia moglie ha condiviso con me questa scelta di candidarmi a sindaco e quindi è una scelta condivisa in famiglia, ma devo dire che comunque sono presente anche in famiglia. Per quanto riguarda la professione, io credo che nella vita tutto parte dal fatto che bisogna sapersi organizzare, bisogna saper organizzare la propria vita, i propri tempi. Io devo dire che è una caratteristica che ho sempre avuto, insomma, se uno si organizza e se la mattina quando si alza ha già le idee chiare di quello che deve fare nell'arco della giornata, credo che si possa ottemperare a queste cose. Io un ricordo di lei riguardante proprio il giorno delle elezioni. Era molto tranquillo. Ricordo che appunto venne in bicicletta nella sede del suo comitato, poi andò a mangiare. Sembrava una giornata quasi come un'altra. Era perché era convinto di vincere oppure perché, come dire, era tranquillo a prescindere? Io non ero convinto di vincere, anche se la campagna elettorale aveva assunto, nelle ultime settimane, diciamo, si dimostrava favorevole, il consenso dei cittadini c'era, le riunioni erano sempre molto numerose, dovunque mi giravo avevo consensi dei cittadini. Poi anche perché io credevo, ho sempre pensato che la candidatura di Paolo Albi fosse una candidatura assolutamente contraddittoria per tutto quello che era stato anche il trascorso di Paolo Albi, una persona che aveva in qualche modo svolto ruoli nell'ambito del centro-destra, fino a qualche mese prima, era stato assessore, poi presidente del Consiglio, faceva parte di una forza politica che era in maggioranza, quindi presentare il centro-sinistra, presentare una figura così, io ritenevo che era una mia idea, ma che poi si è dimostrata anche quella. Quindi la mia tranquillità è dettata dal fatto, ma poi anche perché ho, devo dire che ho affrontato sempre, la campanetta è sempre molto tranquilla, molto serena, molto rilassante, devo dire, e credo che questo mio atteggiamento derivasse soprattutto dal rapporto che si è restaurato con la città, è sentivo, insomma, dai cittadini questa forza che poi si è dimostrata negli occhi. Parliamo appunto della città, dei problemi che ogni città, come appunto del livello di Teramo, ha ovviamente, partendo un po' dal problema del traffico, lei appunto prima parlava di bicicletta, ho ricordato che appunto lei è un amante anche della bicicletta, lei sogna e vuole una, come dire, una città della bicicletta e per la bicicletta, a che punto siamo? La città della bicicletta e del pedone, lo slogan che insomma abbiamo pensato per Teramo, lo stiamo portando avanti con grande forza e grande determinazione, io devo dire che siamo a buon punto, perché uno dei primi anelli fondamentali di questo obiettivo è sicuramente l'apertura dell'8-0, questa strada oramai che da 25 anni attende di essere aperta, una delle grandi incompiute non soltanto a livello locale, ma a livello nazionale e il giorno dopo che io sono stato eletto abbiamo, insieme alla Giunta, deciso di instaurare un tavolo permanente di lavoro con l'ANAS, l'ANAS ha accolto la nostra proposta, questo significava che quotidianamente a distanza più o meno di 10-15 giorni ci fossero dei tavoli di lavoro per verificare passo dopo passo il raggiungimento dell'obiettivo e devo dire che questo tavolo ha dato i suoi frutti, perché al 99% noi apriremo l'8-0, perlomeno una parte funzionale dell'8-0 entro giugno, entro l'estate e questo è il primo aspetto importante, perché Teramo soffre soprattutto per l'ingresso alla città, c'è soltanto un ingresso e quindi tutto è convogliato lì, in questo modo avrà già due punti di ingresso alla città e sicuramente migliorerà. Poi stiamo lavorando sulla corona di parcheggi intorno alla città, perché io ritengo che la ZTL, il centro storico, deve essere riservato ai pedoni e alle biciclette, abbiamo messo in atto anche da qualche settimana c'è una nuova ordinanza che entrerà in vigore il primo marzo, questa ordinanza prevede assolutamente di vieto di entrare in macchina e sarà possibile soltanto ai residenti e per un tempo limitato, cioè la mezz'ora per carico e scarico, in una zona traffico limitato della nostra città che non è molto ampia e quindi questo è un passaggio appunto verso la pedonalizzazione del centro storico, abbiamo deciso di pedonalizzare una delle vie principali che è via Capuani e anche questo partirà il primo marzo, cercando poi di sviluppare un discorso anche di tipo commerciale su questa strada, un po' tanto per fare qualche paragone come via Mantonea Pescara, quindi cercare di creare un punto importante al centro della città, una via anche da un punto di vista architettonico con alcune caratteristiche, stiamo lavorando sulla corona di parcheggi, noi abbiamo già due parcheggi importanti San Francesco e San Gabriele dove c'è stato un incremento anche degli abbonamenti negli ultimi mesi, apriamo dopodomani, sabato mattina inauguriamo il parcheggio di Piazza Dante, un parcheggio interrato che ha circa 160 posti, sono stati venduti e quindi sono acquistati dai residenti e quindi ci sarà già un numero minore di macchine che parcheggeranno in superficie, poi ci sono altrettanti posti per parcheggio a rotazione e un'ulteriore settantina di posti a raso che saranno anche queste a rotazione. Stiamo cercando di andare verso i parchimetri perché vogliamo creare dei parcheggi di rotazione che permettano anche ai cittadini di arrivare in prossimità della città, non dentro la città e poter poi magari passeggiare a piedi o in bicicletta perché il progetto di bike sharing è a buon punto, abbiamo ricevuto un finanziamento di 160 mila Euro dal Ministero, siamo a buon punto, per la primavera riteniamo di essere pronti quindi io devo dire che sono soddisfatto dell'obiettivo città del piano della bicicletta, stiamo andando avanti a ritmi devo dire abbastanza serrati, adesso aspettiamo i tre piani di parcheggi sotto il teatro e così completeremo il primo anello di parcheggi in giorno alla città che riteniamo strategici per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. È fondamentale perché se si vuole un'isola pedonale ciclabile come diceva lei c'è la necessità di avere parcheggi in modo tale da poter avere queste sacche di parcheggio intorno alle aree pedonali. I varchi restano in centro? I varchi restano, stiamo pensando di sostituire i varchi fisici con i varchi diciamo con le telecamere, però è un progetto che avverrà. Tipo quelli di Milano per intenderci. Esattamente, non abbiamo fretta di far questo, abbiamo modificato l'orario che prima prevedeva una fascia oraria dalle 8 alle 11.30 dove potevano entrare tutti all'indale ZTL, dal primo marzo non sarà più possibile, i varchi saranno sempre chiusi e ci sarà la possibilità di entrare soltanto a chi ne ha diritto, quindi residenti, per il carico e scarico merci ci sarà la possibilità, però a orari definiti che sono dalle 8 alle 10.30 e il pomeriggio dalle 2 alle 3.30. In altri orari non sarà possibile entrare. Ora, insomma, su questo c'è stata una discussione, però io vedo che in altre città questo avviene, quindi se avviene in altre città anche chi deve fare carico e scarico si potrà adeguare anche a Teramo. A tal proposito faccio un esempio che è quello di Pescara dove solitamente in centro, quando si parla di aree pedonali, ZTL, ci sono i commercianti che puntano i piedi. Teramo? Guardi, a novembre i commercianti sono venuti da me e hanno detto sindaco c'è Natale, ci devi dare l'opportunità di lavorare, noi non lavoriamo, c'è la crisi, noi vorremmo chiederti di aprire i varchi per tutto il periodo natalizio. Ho detto, guardate, non è questa la soluzione del problema del commercio a Teramo, così come credo in tante altre città, perché il commercio vive un momento particolare e non sarà l'apertura dei varchi. Comunque, ho detto io, facciamo questo esperimento, alla fine dell'esperimento però poi sarete voi che verrete da me a dirmi, sindaco guarda che tant'è che abbiamo fatto questo esperimento con un grande caos, veramente parcheggio selvaggio in città, con tante elementi da parte dei cittadini, siamo arrivati all'11 gennaio, che era la data in cui terminava questa fase di sperimentazione e sono stati i commercianti che sono venuti da me a dirmi, sindaco, siamo d'accordo con te, andiamo avanti con la pedonalizzazione. Non è questo quello che risolve il problema del commercio in centro storico, il commercio in centro storico va incentivato con tutta una serie di attività, devono essere anche i commercianti stessi che si devono proporre, devono dare un motivo in più al cittadino di Teramo, anche di fuori Teramo per venire in città. Io credo che Teramo è una bella città, ha un bel centro storico, se anche qualcuno viene, parcheggia la macchina in un parcheggio a pagamento e si fa una passeggiata, fa bene alla salute, fa bene alla città e credo che faccia bene anche al commercio. Per parere personale, sono convinto che le aree pedonali siano un vantaggio per il commercio e non il contrario. Sempre rimanendo nel centro, uno dei suoi obiettivi nel suo programma era anche la riqualificazione di Corso San Giorgio. Allora, siamo a buon punto anche su questo progetto, lì si era stato fatto un concorso di idee, micro luoghi, macro spazi, il concorso è terminato, un gruppo di lavoro si è aggiudicato il progetto, è stata già fatta la progettazione preliminare, siamo alla progettazione definitiva, abbiamo avuto un finanziamento dei fondi FAS dalla regione Abruzzo per riqualificare il centro storico, quindi dobbiamo soltanto aspettare che si concluda il percorso e inizieremo da Corso San Giorgio, ma non sarà soltanto Corso San Giorgio, diciamo così quello che vedrà in qualche modo le attenzioni dell'amministrazione perché tutto il centro storico... Il recupero del teatro romano anche? Sì, certo, per quanto riguarda la riqualificazione del corso, sia tra il corso San Giorgio che il corso dei Michetti, tutto il corso principale verrà riqualificato. Poi stiamo mettendo, abbiamo messo in atto per la prima volta nella storia del teatro romano, perché sul teatro romano a Teramo si è sempre parlato tanto, ci sono stati tanti tentativi, alcuni anche mal riusciti, di recupero di questa importante opera. Per la prima volta regione, comune, provincia, sovrintendenze e fondazione si sono messi insieme, abbiamo firmato un protocollo di intesa, da questo protocollo di intesa è venuto fuori che adesso stiamo per dare l'incarico ad un progettista di fama internazionale che farà uno studio di fattibilità che ci dirà se effettivamente lì sotto, sotto quegli edifici che sono sorti sopra le rovine del teatro, effettivamente c'è ancora il teatro romano, c'è ancora la gradinata, insomma noi siamo fiduciosi. Adesso faremo una prima tranche di lavori che partiranno da qui a qualche mese, che renderà quella parte, gli scavi saranno fruibili dai cittadini, quindi già una prima parte di lavoro, un milione e mezzo di Euro di fondi cipe recuperati, quindi già una prima parte di lavoro e poi andremo avanti. Io credo che questo sia importante per tutto un percorso che abbiamo messo in atto a terra, un percorso culturale urbanistico che si snoda nella città a partire dal castello della Monica, che è un vecchio castello di proprietà della Monica che è stato poi riacquisito dal Comune, che stiamo recuperando. È finita una prima parte dei lavori che ha visto la messa in sicurezza, di questo importante edificio, adesso stiamo andando avanti per il recupero totale e si snoda nella città attraverso l'ipogeo il progetto di arte contemporanea L'Arca, il Duomo di Teramo, il Teatro Romano, il Nuovo Teatro, i siti archeologici e quindi un percorso culturale urbanistico, il Melatino e devo dire che la fondazione Tercas ha fatto veramente un grande lavoro, sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista, come l'esata qualche settimana settimana scorsa credo è stata riaperta la casa del Melatino, un recupero fatto veramente bene da parte della fondazione e abbiamo restituito anche ai Terramani uno degli edifici più antichi e più importanti della storia della nostra città. L'ex manicomio? Stiamo lavorando anche sull'ex manicomio, l'ex manicomio è uscito dalla cartolarizzazione, l'ESA che era stato inserito nella cartolarizzazione, è stato in qualche modo non fa parte più della cartolarizzazione, abbiamo iniziato una serie di incontri a partire con la ASL, con la stessa fondazione, con la banca Tercas, con tanti istituti bancari, abbiamo un progetto importante di finanziamenti europei per il recupero dell'ex manicomio e io sono fiducioso da questo punto di vista anche su questo intervento perché devo dire che si stanno mettendo in fila tutta una serie di situazioni che mi fanno essere ottimista, l'11 firmeremo un protocollo di intesa in regione a che riguarderà anche proprio l'ex manicomio, quindi devo dire che siamo a buon punto, sono fiducioso. Anche perché l'ex manicomio, a parte che è una grande struttura proprio a livello, è anche uno di quegli elementi di impatto per chi viene a Teramo, perché insomma ha una bella visuale, quindi è un aspetto importante anche per l'immagine della città. Sono d'accordissimo, è importante per l'immagine, è importante perché comunque va recuperato, perché c'è una parte che comunque comincia ad essere abbastanza decadente, quindi ci sono anche dei problemi di sicurezza, bisogna intervenire, ma poi insomma sono tanti metri quadrati che andranno recuperati, lì c'è già un inizio del procedimento perché nella passata amministrazione ci fu un passaggio in Consiglio Comunale che prevedeva appunto questo recupero, ripartiamo da lì e portiamo avanti questo progetto davvero interessante, devo dire che abbiamo avuto anche l'interessamento di tante persone per il recupero, di tanti privati che sono interessati al recupero di questa importante struttura e ci stiamo lavorando veramente con intenzione di raggiungere l'obiettivo, perché è una delle porte principali di Teramo e va assolutamente portato avanti perché significherebbe veramente recuperare una parte della città di Teramo che poi sarebbe anche una delle parti più antiche. Lei prima parlava di fondi della regione, di accordo tra province, Teramo vive anche una situazione congiunturale politica molto importante e molto favorevole, governo nazionale di centro-destra, regione di centro-destra, peraltro con un teramano, la provincia di centro-destra se vogliamo anche un po' a sorpresa rispetto a quello che erano le previsioni nelle ultime elezioni, comune di centro-destra, teoricamente non dovrebbero esserci, poi in politica è così, il fatto è che ci sia un'unica posizione politica, questo è un vantaggio per la città? Assolutamente, io anche in campagna elettorale ho parlato di sinergie politico-amministrative, qualcuno mi ha detto che non bisogna parlare di sinergie, ma io quando parlo di sinergie non parlo di favori, non dico che la politica deve favorire in questa situazione il Comune di Teramo, al Comune di Teramo deve essere dato quello che in passato non è stato dato, perché credo che sia innegabile sotto gli occhi di tutti il fatto che da sempre Teramo è stata un po' trattata come la cenerentola ad Abruzzo, ma questo non vuol dire piangersi addosso perché io non sono abituato a farlo, con l'amministrazione Chiodi e questo è un merito che va all'attuale governatore, devo dire che Teramo è uscito fuori un po' dal guscio, ha rivendicato un suo ruolo e adesso questo ruolo va in qualche modo portato avanti, portato avanti attraverso una richiesta di ciò che tocca a Teramo nell'ambito di una, come vogliamo, di un discorso regionale, perché voglio dire anche a Pescara c'è un sindaco di centrodestra, anche adesso in provincia a Pescara c'è un presidente di centrodestra, a Chieti c'è un presidente di centrodestra. Diciamo che ce ne sono molti. Sì, devo dire che l'ultima tornata elettorale è andata particolarmente bene, quindi io dicevo che le sinergie sono importanti, è una grande opportunità e anche una grande responsabilità, perché poi non si hanno magari scuse, dire no però la regione non ci ha dato i finanziamenti, no, noi stiamo portando avanti dei progetti, vogliamo che la regione guardi con attenzione, con un occhio molto tranquillo, molto libero i nostri progetti e se li riconosce, i progetti importanti validi li deve finanziare. Noi non chiediamo, io non chiederò mai al governatore Gianni Chiodi favoritismi o favori particolari, particolari attenzioni sul territorio terramano soltanto perché lui è Terramano è stato sindaco, lui adesso è il governatore della regione Abruzzo, devo dire che, ma non lo dico perché, lo sta facendo bene, sta facendo un grande lavoro. È un suo grande amico però, diciamo. È anche, sì, assolutamente, è un mio grande amico. Quindi un po' di parte lo è necessariamente. Vabbè, insomma, poi questa sarà una valutazione sua, però devo dire che noi rivendichiamo il nostro ruolo. A proposito di Chiodi, governatore della regione, una regione che ha avuto quello che ha avuto il 6 aprile dello scorso anno, il terremoto, Terramo, se vogliamo, è stata la città proprio più vicina anche fisicamente all'Aquila, avvicinanza per tanti motivi, solidarietà e tutte queste cose. Terramo che ha avuto anche i suoi danni, che chiaramente non sono quelli dell'Aquila, ma ha avuto danni, ci sono stati anche problemi per le scuole, ha dovuto fare un lavoro e anche soldini che sono andati via proprio per la sistemazione delle scuole. A che punto è questo? Noi abbiamo avuto all'incirca 5 milioni di euro, questa è la richiesta più o meno che abbiamo fatto alla regione, perché poi, insomma, se verranno riconosciuti in un secondo momento, adesso priorità assolutamente all'Aquila. Noi abbiamo avuto un primo problema con le scuole e devo dire che le abbiamo risolte in tempo record, è stato il primo grande lavoro che abbiamo portato avanti, un lavoro che ha dato, insomma, che poi ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo, tant'è che noi a settembre abbiamo aperto tutte le scuole, anche quelle che erano state remotate. Abbiamo la sala consigliare terremotata, perché la sala consigliare non è agibile, cominceranno i lavori la prossima settimana, perché noi adesso svolgiamo i consigli comunali in altra sede, al Parco della Scienza, però stiamo lavorando per tornare nella sala consigliare. Sì, è una bella sede il Parco della Scienza. Assolutamente sì, però, insomma, l'importanza, il cuore è in città ed è la sede istituzionale quella, abbiamo anche la sala San Carlo, che è un'altra sala, anche questa molto importante, perché vi si svolgono tante attività che stiamo recuperando. Devo dire che grossi problemi non ne abbiamo avuti, adesso ci sono i privati, abbiamo creato uno sportello della protezione civile che raccoglie tutte quante le richieste, insomma, che sta funzionando, questo ci ha permesso anche di dare una buona assistenza ai cittadini terramani. Noi sul terremoto l'abbiamo vissuto, l'abbiamo sentito, ma ringraziando il Dio non abbiamo avuto. Grandissimi danni ci sono stati. Parliamo anche di un altro aspetto di Teramo, che è fatto in modo particolare da un centro storico, ma anche di frazioni. La sua amministrazione che cosa sta facendo e vuole fare per le frazioni? Allora, noi sulle frazioni devo dire che noi da sempre, da qualche anno, abbiamo messo in atto l'aggiunta itinerante, praticamente non sono più i cittadini che vengono in comune, ma è il comune che va nelle frazioni, tant'è che stasera abbiamo un'aggiunta itinerante nella frazione di Castagneto. Questo ci permette di essere molto vicini ai cittadini delle frazioni, di ascoltare le loro richieste, di cercare di dare delle risposte, tant'è che il risultato elettorale che io ho avuto, che il centro destro ha avuto, è stato un risultato elettorale molto forte, soprattutto nelle frazioni, dove in passato non avevamo tanta forza. Sì, storicamente era più forte il centro-sinistra. E quindi abbiamo anche una grande responsabilità, abbiamo messo in atto uno studio di fattibilità, abbiamo cercato di cambiare un po' sistema, abbiamo messo in atto uno studio di fattibilità complessivo, abbiamo fatto un gruppo di lavoro che sta andando in giro per le frazioni, ascolta i comitati di frazione, cerchiamo di capire quali sono attraverso loro le principali esigenze del territorio, poi verrà redatto da qui a qualche, siamo a buon punto, un grande studio di fattibilità e poi mano a mano andremo ad intervenire frazione per frazione secondo questo studio. Quindi raccogliamo le esigenze in un progetto e poi metteremo in atto questo progetto come primo aspetto. Come secondo aspetto un grande problema che è il Comune di Teramo è quello del trasporto urbano. Noi pur avendo il territorio più vasto in termini di chilometri di tutte le quattro province siamo quelli che hanno meno chilometri destinati dalla regione. Io ho chiesto all'Aggiunta regionale e all'assessore Morra di mettere riparo un po' a questa ingiustizia, perché di ingiustizia si tratta, non voglio togliere niente agli altri province, agli altri comuni, per l'amore di Dio, però è giusto che Teramo abbia quello che aspetta, perché noi abbiamo delle frazioni che non sono per niente raggiunte, isolate, io ho alcune frazioni dove c'è una corsa la mattina, una corsa il pomeriggio, l'ultima alle 5 e mezza, per cui se dei ragazzi vogliono venire in città non hanno nemmeno la possibilità se non hanno la macchina e quindi credo che questa maggiore vicinanza del Comune come centro storico alle frazioni si manifesta anche in questo, quindi in un miglior trasporto pubblico. Le frazioni non le stiamo assolutamente abbandonando, anzi siamo molto vicini alle frazioni, stasera andremo ad inaugurare un'opera importante in una frazione di Castagneto che si è conclusa qualche giorno fa e siamo molto vicini perché tra l'altro riteniamo che tutti i cittadini sono uguali, non ci sono cittadini di serie A e di serie B e non è che chi vive una frazione ha meno diritti di chi vive in centro. Diciamo che si sta per concludere il primo anno di questa legislatura, le cose stanno andando abbastanza bene, la vedo soddisfatto del lavoro fatto e dei programmi, ma il sindaco ovviamente ha le sue spine, è normale che lo sia, lo è anche per lei e mi riferisco al fatto, addirittura diciamo che è stato anche un po' minacciato con delle scritte sui muri riguardante lo stadio o meglio ancora il vecchio stadio che non è più funzionante. Perché ce l'hanno con lei? Ma io non lo so, ce l'hanno con me perché dicono che è giù le mani dal comunale, il comunale non si tocca. Hanno fatto anche un referendum, stanno organizzando i tifosi. Stanno organizzando un referendum, allora guardi, io ho grande rispetto per il comunale, ho grande rispetto per la storia del Teramo Calcio, però devo dire che Teramo adesso uno stadio ce l'ha, uno stadio che tra l'altro ci è invidiato da tanti comuni anche vicini al nostro territorio, per questo project che è stato realizzato con la Giunta Chiodi, devo dire che abbiamo, ci sono stati una parte dei campionati europei Under 18 qualche mese fa, quindi voglio dire a Teramo arrivano, grazie anche a questo stadio alcune manifestazioni di livello internazionale e importanti, quindi direi che Teramo lo stadio ce l'ha, tra l'altro io vorrei ricordare che cosa succedeva a Teramo quando c'erano partite di cartello, mi ricordo una volta Teramo salernitana, la città è rimasta bloccata quasi per un'intera giornata, è successo di tutto. Vogliamo ricordare che lo stadio, vecchio stadio, è nel pieno centro della città. Nel pieno centro della città e quindi da lì è nata l'idea una volta fatto il nuovo stadio che quello stadio in qualche modo andasse abbattuto, quindi è nato il progetto del nuovo teatro, progetto nato diversi anni fa, quindi non è che nasce oggi domani mattina, quindi se adesso qualcuno si sveglia così di buon'ora la mattina e pensa che si deve fare un referendum, io dico che se ne doveva e se ne poteva ricordare qualche anno fa, perché ci sono stati i tempi e i modi per far questo, ci sono stati passaggi consigliari dove si è dibattuto anche sulla sede, ora noi siamo a buon punto, la fase procedurale è terminata, adesso bisogna fare il bando di gara che è quasi pronto, lo stiamo rivedendo in questi ultimi giorni e quindi si andrà in gara e quindi non c'è più tempo, con tutto che io sono d'accordissimo sul referendum perché è un elemento, una forma di democrazia importante, però in questo caso giunge veramente tardi, quindi io ho detto che per quanto riguarda quelli che tra l'altro si dicono cose anche non vere, si dice che c'è già decisa la gestione, non è assolutamente vero, la gestione che è all'interno del progetto riguarda soltanto la gestione di tipo amministrativo, cioè chi apre chiude il teatro, per quanto riguarda la gestione degli eventi culturali rimane in capo al comune, ho intenzione di aprire una tavola rotonda su questo perché credo che sia importante, che Teramo ha una forte componente, ci sono tante attività, ci sono tanti gruppi, ci sono tante associazioni che vogliono fare cultura, che fanno cultura anche giovani, anche gruppi giovani a cui noi vogliamo dare assolutamente la possibilità di esprimersi, dare voce e per questo apriremo un tavolo, ci sarà un, apriremo un discorso e siamo disponibili. Per quanto riguarda il discorso del teatro, oramai è tardi, il teatro verrà lì nell'area dell'ex stadio. Quanti posti avrà questo teatro? Sono 800 posti, ampliabili fino a 1000, ci saranno delle multisala, ci saranno 5 sale cinematografiche, ci sarà anche un teatrino più piccolo per eventi di minore importanza, ma Teramo ha bisogno assolutamente del teatro, il vecchio teatro comunale oramai è vecchio, è vecchio insomma, ma poi si trova proprio in centro città, in una zona dove non è assolutamente più possibile realizzare strutture di questo genere, se ci fosse rimasto il vecchio teatro a nessuno sarebbe mai venuto l'idea di fare un nuovo teatro, il teatro a Teramo purtroppo non c'è più, quindi ha bisogno di questa struttura, la sede è la migliore e poi anche per chi dice che lo stadio è una delle poche aree verdi che è la città di Teramo, a parte che questo non è vero, perché io vorrei ricordare che Teramo è una delle poche città in Italia che ha un anello che fra qualche settimana avrà un anello di 11 km di parco urbano intorno alla città, 11 km di pista ciclopedonale intorno alla città, credo che pochissime sono le città che possono vantarsi di avere un parco così importante, in Abruzzo nessuno e tra l'altro stiamo portando avanti insieme alla provincia una pista ciclopedonale Teramo-Giulianova che qui da questo anello partirà questa pista che arriverà a Giulianova e che si andrà a connettere con la pista che c'è sul lungomare, la famosa Adriatica che va su tutta la costa. Si farà prima della Teramo-Mare, però non dei tempi della Teramo-Mare. Sì, assolutamente sì, quindi devo dire anche su questo si dice anche una bugia e poi del verde rimarrà, perché non è che sarà tutto edificato e tutto cementificato, ci saranno anche dei parchi urbani all'interno, intorno al teatro, è un'opera veramente importante e bella. Su questa storia del vecchio stadio le faccio una domanda un po' scivolosa, ma secondo lei ci sono solo i tifosi dietro questa protesta o c'è qualcun altro che magari per qualche motivo ha interesse a fomentare la polemica? Guardi, non ci sono soltanto i tifosi, io con i tifosi ho detto anche che sono disposto a valutare una qualche opera, un qualche intervento che sia il ricordo in memoria del vecchio stadio, delle glorie che ci sono state, degli avvenimenti, siamo disponibili. c'è anche un partito, ma non proprio c'è la rifondazione comunista, che però è il partito del no, ha sempre detto no a tutto, io sono perché la città di Teramo cresca, vada avanti, io ho presentato un programma elettorale, i cittadini di Teramo, il 57% ha votato il mio programma elettorale, nel programma c'era scritto nuovo teatro, così come c'era scritto chiusura della discarica alla torre, c'era scritto nuovo teatro. Io sto portando avanti il mio programma, a 8 mesi e quasi un anno non ho cambiato assolutamente nulla, quindi se adesso rifondazione comunista… Grazie. 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 Grazie.